Un pregiudicato di 37 anni è stato arrestato dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli con l'accusa di essere il complice di un narcotrafficante che nel luglio del 2023 venne arrestato sulla 1 all'altezza di Colleferro in provincia di Roma a bordo di una vettura modificata proveniente da Malaga, nella quale erano stati abilmente nascosti quasi 100 kg di hashish. All'identificazione del 37enne a cui la procura di Velletri contesta il reato di traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante delingente quantitativo, si è giunti a seguito delle analisi del cellulare trovato in possesso del primo trafficante arrestato, che ha evidenziato il ruolo di staffetta ricoperto durante il trasferimento della droga direttamente nel rione Scampia di Napoli. All'epoca il 37enne era già stato identificato dalle forze dell'ordine mentre era a bordo di un'autovettura con targa tedesca in sosta dietro il mezzo del primo arrestato.